ciao a tutti ragazzi benvenuti questo questo bellissimo video già oggi oggi sapete tra poco e pasqua è finita per questo oggi noi faremo per questo passo questa fioide cosa come che si può dire cosa si può dire ah sì ecco tanto che pasqua sta finendo tocca oggi fare un altro unboxing quello che ho comprato anzi che ci ha regalato ovvero ferraro scero già è un bel uovo di pasqua dice più spesso e goloso di cioccolato al latte a nocciole e già al video precedente lui si è mangiato tutte le uova di pasqua o ce l'hai ancora con me ce l'avrò sempre con te avrei non l'ho fatta apposta vabbè lasciamo perdere quello che è successo l'altro 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 giorno ma l'importante è che questo uovo si ha mangiato in sé dice la sorpresa sono queste già vabbè dai passiamo bene chiacchiere e apriamo questo uova già è vero apriamo questo uovo poi lo scotch c'è sempre togliamo lo scotch aspettate ecco così dovrà dovremmo andare bene io appoggiamo la telecamera eccolo qui caspita mai fighissimo è proprio il trasparente già però stavolta ce lo mangiare tutti insieme non mangia tutto tutto si si ok non lo farò ecco bravo blu così ti voglio aia o cavoletti no serio c'è meno paura di pasqua o io quanto è dura ok faccio io e adesso che vuoi vuoi un applauso per questo verso vero e adesso che vuoi vuoi un applauso per questo verso è vero che hai fatto se puoi contorci ok comunque dai vediamo la sorpresa wow questo bel cioccolatino già è vero c'è proprio il cioccolatino è posso mangiare un pezzo signor tirano va bene te lo sei meritato però non mangiarlo tutto mangio tutti insieme te posso mangiare un altro certo certo ok attento cavolino ti sei caduto aspetta che ti voglio riprenderti grazie prego questa sorpresa è carina dai apriamo 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 Caspita, sono davvero fighissime sorprese Sì, è vero, sono bellissime Comunque che facciamo adesso? Chiudiamo il video adesso? No, è durato pochissimo Facciamo ancora due ore di più E anzi, faccio ancora la mia lezione di rugito Ok Fai la tua lezione di rugito pure quando vuoi Ok Fai la tua lezione di rugito Ok Ok, sono pronto Mi alzerò e farò due al verso Ok, pronti? Sì, siamo pronti Vai Ecco Vabbè dai Ok, la mia lezione di rugito ormai è finita Bene Possiamo chiudere il video? No, è durato poco Ok Ok Però comunque Allora, stavo dicendo Che adesso possiamo finalmente già subito fare qualcosa Già, è vero Possiamo subito fare qualcosa Sì, è vero Sì, è vero No, è vero No, mi spiace ragazzi Purtroppo il video può finire qua Intanto mangiamoci un po' di cioccolato Venite tutti qua ragazzi Ok, mangiamoci un pezzettino Tenete Buonissimo Sì, buonissimo Sì, buonissimo E adesso Queste sorprese Me le posso mangiarle io Già, sono tutte tutte Te lo sei meritato Signor Tina Grazie, grazie Oh Aia Oh, sì Proprio così Però No Sono proprio buone Mi mangerò anche io un pezzo di cioccolato No 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 Proprio squisito Vabbè ragazzi Il video può finire qua Chi chiude il video? Chiudo io Dato che non sto mangiando cioccolato Ecco, bravo Sono molto fiori di te Vabbè Bene ragazzi Questo video finisce qua Mi raccomando Spero se questo mi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Sì, altro cosa Va a vedere Faccio qualche altro posso dire Sì, ecco sì Spero se questo video Mi sia piaciuto moltissimo Spero se questo video Mi sia piaciuto moltissimo E non dimenticate Di iscrivervi al canale Scusate Lasciate tanti commenti Su Instagram Tutti quanti Ragazzi Tutti quanti ragazzi Aspetta Altre cose Ecco sì Lasciate molti commenti Su Instagram E noi E noi E noi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti E buona Pasqua Anche se Adesso da oggi L'ultimo giorno è finita Comunque buona Pasqua ragazzi Già Buona Pasqua Buona Pasqua Ciao Un altro ultimo Delizio delogito Per salutare Ok Parlo al tuo ultimo Delizio delogito Ciao Ciao ragazzi Comunque ragazzi Ciao Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua